Cari figli fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore è dall'eternità e dura per sempre per coloro che lo temono. L'amore del Signore non ha un termine, dura in eterno ed è dall'eternità. Come ci dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo, la grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità. In Gesù questa grazia si è rivelata, in Gesù questa grazia è stata donata, è Lui stesso la grazia. Dio ci ama donandoci Suo Figlio, è il Figlio di Dio apparso nel mondo, nella nostra natura umana, perché la grazia si è resa visibile, come ci ricorda l'Apostolo Giovanni, e noi l'abbiamo veduta. Questa grazia si è manifestata nella persona di Gesù e questa grazia ci viene elargita continuamente attraverso l'annuncio della parola di Dio, ci viene comunicata attraverso la celebrazione dei sacramenti, attraverso l'amore fraterno, attraverso la preghiera, attraverso la ricerca della volontà di Dio, attraverso il compimento della volontà di Dio. Noi siamo oggetti della benevolenza di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Ma perché è questa grazia? È la domanda che tanti si sono posti all'inizio della Chiesa e anche oggi. Noi ci poniamo questa domanda, se questa grazia è solo per un gruppo privilegiato di persone, o se questa grazia è per tutti. La risposta ce la dà la scrittura. Già nell'Antico Testamento, Il profeta Eseia diceva «Nell'ultimi giorni, dice il Signore, io preparerò su questo alto meonte un banchetto di grazia vivante, di cibi succulenti, per tutti i popoli della terra». E nei salmi troviamo questo annuncio gioioso. Popoli tutti, lodate il Signore, esaltate lo genti, perché è forte il suo amore per noi, la fedeltà del Signore, dura in eterno. Questo salmo brevissimo celebra che tutti i popoli, popoli tutti, lodate il Signore, tutti i popoli, sono chiamati a godere del dono della grazia. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminare i nostri cuori. manda il tuo Spirito, Signore, tutto sarà ricreato e rinnoverai la faccia della terra. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione. Manda il tuo Spirito, Padre, e ogni lingua proclamerà che Gesù Cristo è il Signore, all'ode e gloria del tuo nome. Spirito Santo, vieni dalla nostra vita, rinnova il cuore della Chiesa, apri il cuore della Chiesa alla visione della salvezza di tutte le creature, anche di coloro che al momento militano in altre fedi, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità, a Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nella lettera di Vesini, fratelli, l'Apostolo Paolo si presenta come l'Apostolo al quale il Signore, per rivelazione, ha manifestato il suo progetto, che il Vangelo sia comunicato anche ai pagani. Nel terzo capitolo, in modo particolare, della lettera di Vesini, scrive, Io, Paolo, il prigioniere di Cristo, per voi gentili, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui sopra vi ho scritto brevemente. Dalla lettura di ciò che ho scritto potete ben capire la mia comprensione del mistero di Cristo. E aggiunge l'Apostolo dicendo questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni. Sì, i profeti, i salmisti avevano parlato, adombrato, ma la coscienza di questa volontà di Dio gli è venuta a noi per mezzo di Gesù Cristo e poi attraverso la manifestazione della volontà di Dio agli Apostoli, in modo particolare a San Paolo. Anche Pietro aveva annunciato il Vangelo ai pagani, ma fu un fatto sporadico. San Paolo invece ha una vocazione sistematica ad annunciare il Vangelo ai pagani. Perciò dice, questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come presente e è stato rivelato ai suoi Santi Apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, vedete, lo Spirito Santo che agisce nella Chiesa, che i gentili, cioè i pagani, le genti, sta per pagani, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo del quale io sono divenuto ministro per il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù dell'efficacia della sua potenza. A me che sono l'infimo, cioè l'ultimo, fra tutti i Santi, è stata concessa questa grazia di annunziare ai pagani le imberscrutabili ricchezze di Cristo e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio creatore dell'universo. Vedete, fratelli, come si parla di una rivelazione. Nella prima lettura di oggi dagli atti degli apostoli si è nata che San Paolo si trovava a Corinto ma i giudei a cui lui si rivolgeva si ribellavano alla sua dottrina, alla sua annuncia. Allora lui si rivolse ai pagani e tanti di questi aderivano alla fede. Ma una notte si legge che il Signore apparva l'Apostolo in visione dicendogli non aver paura continuo a parlare e non tacere perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso. In tutte le città dove lui andava veniva perseguitato e nella città di Corinto anche aveva una sommossa contro di lui fu preso dai giudei e portato avanti al governatore della città un certo gallione che però vedendo radunati i giudei forse anche per antipatia contro di loro e va a dire se quest'uomo avesse commesso qualche delito o qualcosa contro la legge vi ascolterei ma se è questione di cavilli della vostra legge dei vostri culti vedetevela voi e quindi li cacciò fuori dal tribunale e allora i giudei si rivorsero contro sostene capo della sinagoga e lo percossero e San Paolo poteva continuare ad annunciare il Vangelo secondo la promessa di Gesù senza che alcuno li potesse fare del male e tanti in quella città aderirono alla fede vedete fratelli come lo spirito santo guida la chiesa in altre città le cose erano avvenute in modo diverso in questa città Gesù stesso annuncia a San Paolo che lì c'è un popolo numeroso e quindi non deve avere paura perché lui lo sorregge e lo difende da tutte le aggressioni Signore Gesù oggi tu vuoi che tutti gli uomini vedano la tua gloria tu vuoi che tutti gli uomini arrivino alla fede tanti si ribellano contro la tua chiesa contro di te tanti sognano di vederti scomparire dalla faccia della terra che il tuo nome sia cancellato ma tu sei il figlio di Dio rimani in eterno e nessuno può distruggere il tuo regno noi ti chiediamo Signore Gesù manifesta la tua parola vieni e soccorri i tuoi figli vieni e porti il Vangelo ad ogni creatura su questa terra chiama nuove apostoli infervorati di te ad annunciare il tuo Vangelo con potenza di parola e potenza di opera nello Spirito Santo perché il tuo nome sia glorificato e ogni lingua proclami che tu sei il Signore a gloria di tuo Padre e tutti i popoli possono battere le mani acclamare Dio con voce di gioia perché terribile è il nome dell'Altissimo Re Grande su tutta la terra a Lui gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen Vergine Santissima che sei stata proclamata Regina del Cielo e della Terra Regina di tutti i popoli nel Regno di Dio tu regni tu regni sovrana accanto al figlio tuo Gesù Cristo secondo la parola della scrittura perché come hai partecipato con Gesù alla sua sofferenza oggi partecipi anche alla sua gloria e regni sovrana ma tu sei stata proclamata Regina non per te per noi per condurre tutti noi alla gloria di Gesù a partecipare al suo regno oggi soccorri quando sono in difficoltà soccorri quando quando si trova negli stati di disagio e fa che nessuno abbia a crollare nella fede ma che ogni credente partecipante alle sofferenze di Gesù partecipa anche al ministero di annunciare Cristo Gesù con la parola e con le opere alla gloria di Dio Padre a Gesù gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli Amen e lo Spirito Santo dice anche al nostro cuore oggi fratelli di non temere ma continuiamo a testimoniare Gesù con semplicità ma anche con potenza e amore fino a che si manifeste la sua gloria e anche noi verremo riconosciuti come apostoli suoi per l'eternità per ricevere l'eterna ricompensa accanto a Lui Amen